ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti sulleleking tv e con questo nuovo video in cui vi mostrerò le mie fori raccolte adesso voi direte che cos'è questo qui che ci stai facendo vedere questo è un vecchio raccoglitore dell'adrenaly che non usavo l'ho svuotato ci ho fatto questa copertina qui con scritto calciatore 2019 2020 e ci ho inserito al suo interno tutte tutte le fori raccolte a mia disposizione sono complete allora iniziamo dalle gommaglie ragazzuoli adalanta bologna brescia che sono arrivate ultimamente adalanta e brescia l'ho dovuto acquistare su ebay cagliari fiorentina genoa verona inter juventus anche questa è arrivata dallo stesso venditore la gommaia della lazio del lecce del milan del napoli del parma della roma della santo e del sassuolo e della spalla poi giriamo e abbiamo torino e utinesi qui abbiamo tutta la lista completa legata così e qui abbiamo tutti gli scudetti del fuori raccolta sono quelle delle bustine gol eccole qui abbiamo atalanta bologna brescia cagliari fiorentina genoa verona inter juventus lazio lecce milan napoli parma roma samp sassuolo spal e poi torino udinesi udinesi è stata l'ultima che ho avuto che l'ho dovuto acquistare anche questa invece poi abbiamo gli idoli gli idoli abbiamo fatto arrivare quello dell'atalanta e del brescia che mi mancavano poi vabbè in mezzo c'è il bologna il cagliari la fiorentina il genoa il verona l'inter e la juventus anche quello della juventus e questa è una cosa strana perché mi mancavano le gommaglie atalanta brescia juventus e mi mancavano anche gli idoli di atalanta e breccia con la juventus non invece già ce l'avevo stavo sbagliando perché sto dicendo mi mancava anche quello invece no mi mancava quello quelle mi mancava oltre me sa solo questi due mi mancava atalanta breccia inter inter e mi mancava come l'ho fatto arrivare poi abbiamo quello della lazio del lecce del milan del napoli del parma della roma della samp del sassuolo della spal e poi abbiamo quelli di torino e udinese poi ho fatto fuori raccolta quindi fuori dall'album al di fuori dell'album la raccolta di tutti gli scudetti che si trovavano all'interno dell'album quindi ce l'ho completi tutti quanti anche gli scudetti quelli classici diciamo che si trovano nell'album e poi ho fatto tutta la tematica relativa ai top player i top performance scusate anche questi ce l'ho tutti che sono uno per squadra poi io mi sono conservato delle figurine di alcuni giocatori del di questo album io ho scelto di tenermi federico chiesa bastoni esposito martinez del ict di bala donna ruma in signe chiesa cristiano ronaldo ce l'ho sia nella versione classica poi ho quello della champions league o il cristiano ronaldo della del diemo 2020 preview o questo cristiano ronaldo particolare poi ho tonali e sempre per quanto riguarda la l'euro 2020 preview mappe donna ruma poi ho qui maradona commessi questo è fifa 2019 se non sbaglio lewandoschi poi qui ho francesco dotti in due versioni che giuseppe giannini queste sono le mie fuori raccolta di questa stagione 2010 e 2020 spero che il video vi sia piaciuto ragazzi ragazzuoli ci vediamo nel prossimo video e quindi continuate a seguirmi ciao a tutti